e non ho anche bassi perchè si sbattiva aspetta che mi piglia una camera qui c'è qualcosa che gira per me gira tutto attorno con la poltrona 89 anni allora ragioniamo un secondo raga morto allora esatto cosa è uscito dalla tavola allora ha detto è uscito il nome si è uscito il nome non è casa sua non è casa sua no qui probabilmente lui non è mai stato qui quindi non lo so ci ha fatto capire che quella la sua poltrona però che è morto qua e probabilmente in un giorno di pioggia no però è strana la sensazione che l'aria non è leggera però non ci ha risposto si era arrabbiato con noi è ovvio che verrebbe da dedurre che magari è arrabbiato perché la sua poltrona è qua e lui la vorrebbe da un'altra parte 89 anni si è pioggia poi c'è stata l'anomalia di questo fulmine lampo ha tremato la casa ragazzi ha tremato la casa la sedia su cui ero seduto ha tremato ma perché avrebbe dovuto scusate un secondo farci sentire la pioggia tutte queste cose noi continuiamo a far domande sulla sua morte perché magari il giorno magari luce l'ha trasmesso attraverso una sensazione cioè i brividi sono a pensarci io glielo ho detto che ha sentito io glielo ho detto ragazzi magari veramente io io ho giocato più di una volta dicendo è il tuo ultimo respiro e si le hai chiesto le volte esatto e quindi ho detto magari esattamente come hai detto tu cioè lui l'ultima volta che ha respirato era esattamente nella posizione di debbi qui sentiva quelle cose si e poi non lo puoi sapere siamo già in un periodo di temporali beh poi scusami ma se questa poltrona fosse stata cioè è comunque qui ok l'hanno usata matteo l'ha usata cioè non è che voglio dire l'ha messa qui per usarla come hanno usato qualunque altra cosa su questa in questa casa quindi cioè lo so perché non lo so o forse proprio perché l'hanno usata o forse perché l'hanno non lo so non so cosa può centrare campana campana avete sentita si l'ho sentita ma c'è una chiesa qua vicino beh magari in una vallata può rimbombare può essere secondo te è arrabbiata con noi troppo no a parte che non c'è risposto però io non ho una brutta sensazione eppure comoda sta poltrona ma cosa ma debbi ma stiamo scalzando ma cosa sei fuori di testa cosa sei fuori no 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 l'hai sentita anche tu ma si è chiaramente poltrona con un altro tono ma debbi ma mi viene giocato no 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 ti giuro ti giuro mi hai gelato mi hai gelato anche tu l'hai sentita beh certo c'è da sta poltrone da sta poltrone da sta poltrone oh ti è uscito tipo poltrona da uomo da uomo culturale culturale sei fuori di testa non riesco a ripetarlo ma hai fatto un vocione non è vero te lo giuro debbi non te ne sei accorta no ti è cambiata la tonalità di di cioè non sei fuori ma paolo ascoltami bene se mi stai di nuovo prendendo in giro no 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 debbi sul serio sul serio hai proprio cambiato voce e su poltrona ma dove i brividi ragazzi ragazzi i brividi te lo giuro sei brutto mamma mia che paura per il diaframma che è uscito che paura che mi hai fatto no voi mi avete fatto paura a me tipo poltrona mio dio io non ci ho fatto caso non ci vorrò ho fatto caso mio dio sei fuori tu vuoi giocare oh signore oh signore sei vero debbi ti giuro mi ho ancora il cuore che sta battendo allora non farlo no allora non farlo no allora no è cosa ma scusami ma abbi pazienza ma se mi dici a me una roba poi la fai tu ho capito ma che vada mi fa parlare più maschi ancora una bella cosa allora se non mi state prendendo in giro no debbi no assolutamente questa roba è un po pericolosa ok perché vuol dire che stava non dico entrando ma no hai fatto da ponte da canale secondo me è appunto ma lascia che ci provo io ho visto cinque minuti qua no paolo perché non è una cosa bella e se tipo vieni posseduto ma sei fuori alla miseria già sei insopportabile così figurati da posseduto ci non scherziamo non scherziamo torniamo tutti a casa no 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 non fatemi morita di paura io lo so che tu vuoi indagare e fare però c'è no però è vero quando è troppo rischioso cioè non è una bella cosa ma santa miseria guarda che c'è che uno no non è che no però c'è se mi dici questa cosa che mi è successo che io non mi sono accorta oh sono sicuro ti è cambiata la parola poltrona di stasera ne abbiamo già vissuto e non metterti di sopra non metterti di sopra e poi vieni a casa con me non metterti di sopra per favore o vai a dormire da gecko da marco da pivote stasera non sederti di sopra paul per favore guarda se vuoi ti concedo di mettere la black box lì sopra e io non me lo faccio dire tre volte quindi vado a prenderlo il due lo salta lui no scusa no ma stiamo scherzando dopo tutto quello che è già successo ma è vero cioè è vero poi se mi gira gli occhi io svengo ma è vera sta cosa debbi hai proprio non so non so rifarlo ma è come se ti fosse uscito un suono gutturale eh guarda puoi ringraziare chi stasera mi sono malinconico se non mi sederlo no no certo paolo paolo a me è sembrato di sentire paolo ragazzi renzo sei tu cosa cosa ha detto o io ho capito sono no cosa cosa si mette io ho capito le ante le ante ma era una senanza del genere ha ragione cosa significa non lo so ce l'hai dietro a te le a te le ante oh capio no vabbè sono solo ante ragazzi costretto ma sei malato voi 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 magari avete anche nella tavola voi sì sì quindi noi abbiamo capito giusto e tu a questa poltrona sì 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 chiaro chiaro bene ok debbi cosa fai qui sotto anche io ho capito qui sotto togli altri dubbi tipo è vero che sei morto su questa poltrona renzo era un giorno di pioggia giusto giusto e tu stavi male respiravi a fatica seduto sulla tua poltrona preferita c'era anche cosa c'è qualcosa ho detto c'è qualcosa o l'ho sentito solo io c'era il temporale coi tuoni mamma mia e perché sei arrabbiato renzo perché sei arrabbiato ma sei arrabbiato con noi demoni perché dei demoni dovrebbero avere un vecchietto di 89 anni ho preso un brivido alla schiena sì certo c'è meno che in vita abbia fatto questa che cosa ma cos'ho? cos'ho? c'è la porta aperta dietro ho capito ma è un po' che sono qua magari in vita ha fatto qualcosa di sbagliato ma non sbagliato magari qualcosa di occulto sai magari ha aperto dei canali che non doveva aprire va bene quindi mi si prospetta un ottimo al di là spesso si dice che non è bello rimanere magarito lui è rimasto attaccato ad un oggetto che appartiene a questo mondo sì può essere vero allora controllo eh sì però non ha senso perché è arrabbiato anzi qua mi sembra un posto tranquillissimo in mezzo alla natura in una casa comunque graziosa in mezzo al bosco scusate vorresti essere da un'altra parte? sì sì fiume 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 con la tua poltrona? moltissimi 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 moltissimo moltissimo questo vuole essere da un fiume con la sua poltrona? cosa ne sai? che usa ne faceva? non lo so o magari dove abitava era vicino a un fiume e dalla finestra vedeva o dal porticato lo spero perché se vuole essere vicino a un fiume con la poltrona magari lo vedeva la cosa sua no però si sente almeno siamo arrivati è lontano ma c'è lontano ma considerando che comunque sia una montagnetta è facile perché magari sia parecchio lontano ma lo sentiamo fosse un vecchietto di 89 anni che si è sentito male ed è morto sulla sua poltrona cosa che è comunissima no? può accadere ragazzi ho visto cosa hai visto? avete mosso qualcosa tu eri fermo Paul vi siete mossi? si io facevo così una luce è passata dallo specchio al muro e poi è tornata tipo allo specchio o qualcosa del genere ha fatto un movimento così ma una lucina nessuna luce cioè io una lucina piccola no no è presente il laser puntato su un muro? si quello è effetto lì comunque stavo dicendo cioè mi sembra una cosa abbastanza normale un vecchietto che a una certa età magari ha qualche malattia certo viene a mancare sulla sua poltrona perché dovrebbe essere arrabbiato? effettivamente sai che mi è venuto un flash tipo? Matteo non so perché vecchio arrabbiato Matteo Matteo il soldato il soldato che magari è successo qualcosa da quando era anziano che cioè si sta portando dietro un'arrabbiatura che non riguarda magari in sé la poltrona non lo so eh sì ho capito una cosa legata alla sua vita legata a un rancore un rancore passato un rancore di un vissuto però ci ha aperto la porta e ci ha fatto entrare che non è una cosa da un uomo arrabbiato magari attendeva qualcuno su questa poltrona che non è mai arrivata ah è vero è vero cosa ti è successo sulla poltrona? non è vero Autore dei sovrapposti